buongiorno a tutti l'estate giornata caldissima a roma dopo due giorni di vento intenso calato il vento 40 gradi oggi ci vediamo il portico qua parliamo di tabacco anche se con l'estate le affumicate le fumo un pizzico meno anche se cerco sempre di mantenere quella regolarità dell'unico tabacco per circa una settimana il tempo che ci metto mediamente a finire 50 grammi effettivamente le latachiose le comincio un pizzico più a soffrire in piena giornata veramente col caldo pieno preferisco un po di più i naturali vediamo se torno alla modalità di due tabacchi fumando i latachiosi solo la sera e i naturali invece durante il giorno ne ha un po tendenzialmente questa è stata sempre la mia regolarità nei primi due tre anni di pipa poi ormai da quando comincerò a fare un tabacco alla volta che non mi dispiace perché mi permette di concentrarmi meglio su quel tabacco capirlo meglio provarlo in tutte le sue spaccettature però devo dire che quando poi arrivano queste giornate calde ti vuoi fare una fumata il pomeriggio a quest'ora mamma mia tosta pipa di oggi è una stefano sant'ambrogio una poker semicurva gran pipetta veramente stefano sant'ambrogio peraltro poi faremo un video su questo tema è uno di quegli artigiani che poca spesa massima resa davvero perché artigiano riconosciutissimo competentissimo questa è la sua tipica lavorazione rusticata nella testa con una parte liscia invece nel nella parte del cannello prima della del bocchino il corno e marroncino molto particolare è veramente sono pipe che questa credo di averla pagata 65 euro credo è stata la mia quarta o quinta pipa ma ecco comprata e fino a 100 120 euro le pive di sant'ambrogio e sono sempre delle pipe eccezionali devo dire va bene ma passiamo al tabacco che invece rispetto a quello che era l'inizio di questo video sia le latachiose le fumo un po meno questo è un tabacco per il quale posso rivedere questa posizione perché lo metto decisamente nei miei top 3 almeno delle latachiose vendute oggi 2022 giugno in italia di tabacco parliamo facciamo come alfonso maria lasciocchi e copriamo la scritta della morte celebrated sovereign tabacco di robert mcconnell che ancora una volta conferma di essere la mia brand marchio di pipe preferito in italia in questo momento una sostituzione a tutto campo dei gaunti secondo me è negreggia su tanti casi alla pari se non meglio e questo è esattamente un esempio di questo tipo di miscela una miscela mamma mia che odore spettacoloso questo tabacco la miscela è una modern english una miscela quindi fatta da virginia latachia orientali turchi e un po di black cavendish ve la faccio vedere colore assolutamente ve la faccio vedere colore assolutamente naturale se riusciamo anche così troppo con questa confezione un po più difficile non lo vedete comunque colori molto chiari eccoli qui ben mescolato c'è il nero del black cavendish e della latachia ci stanno le foglie chiare di virginia quelle intermedie degli orientali qualche fogliolina più tendente al verde un odore eccezionale molto piacevole molto incensato ma con tutte le note classiche dei tabacchi affumicati e confermo un latta da 100 grammi in italia venduta a circa venduta a 35 euro e 50 se non mi sbaglio o 36 quelli sono i costi di questo tipo di di confezione di da 100 di mcconnell e questo è il classico caso sapete che io dico sempre ma quando compri una tin da 100 poi non sai mai quello che succede se poi non ti piace 100 grammi sono tanti mamma questa qui non la mollerò mai più e entra di dritto in uno di quei tabacchi che non smetterò credo mai di fumare e di avere quando voglio avere proprio una certezza questa mi sostituisce certe miscele che non trovavo più è veramente una cosa strepitosa in che cosa è strepitosa? innanzitutto nella sua e devo fare veramente i complimenti forse questo è il tabacco da sempre con la miglior bruciabilità che trovo è un tabacco eccezionale si accende con facilità parte non perde mai un colpo è un'umidità perfetta non fa acqua e ruggiola brucia con la giusta velocità e riesce a rispondere ad ogni velocità di fumata anche con un ritmo un po' più intenso veramente sempre sempre in maniera gradevole da sempre un gusto piacevole è una cosa strepitosa da questo punto di vista veramente mi è capitato pochissime volte di approcciarmi a un tabacco che ha questa bruciabilità questa perfetta combustione realmente senza dover far nulla in merito alla preparazione del tabacco lasciarlo fuori, lasciarlo dentro lo aprite, è pronto, è perfetto così rimane peraltro lo lasciamo sempre qui dentro quindi non è che ha bisogno di particolari attenzione è una miscela che potrei definire differente in due parti nella prima parte la sua anima latachiosa è più presente il protagonista con tutte le sue note è la fumicatura il cuoioso l'incensato c'è tutto ed è molto preminente sulla fumata nella seconda parte sembra quasi switchare verso una balcanica nel senso che il latachia leggermente si affievolisce vengono fuori di più la mediazione tra virgolette degli orientali e di probabilmente uno splendido Virginia di base e permettono di addolcire un po' questa nota Black Cavendish si c'è ma immaginate un Black Cavendish assolutamente non aromatizzato che non ha altro che la funzione di affievolire ammorbidire e far amalgamare gli altri tabacchi del blend quindi veramente è un Black Cavendish che riesce ad unire e a creare una situazione sì di una base di una English con una nota di dolcezza di base ma una dolcezza che prendetela davvero con le pinze nel senso che una dolcezza che è più che altro un equilibrio non fa passare in avanti mai le noti più forti della tachia permette di mantenere un'aromaticità sempre greggia e tiene unita questa miscela in maniera veramente strepitosa l'ho fumato davvero in qualunque tipo di pipa e non ha mai sbagliato grandi piccole alte basse in qualunque momento della giornata un tabacco strepitoso strepitoso davvero probabilmente se poi all'inizio dicevo può essere fumata a qualunque ritmo e non perde i suoi sapori confermo totalmente l'ho preferito però probabilmente fumato un po' a fil di fumo leggero piano cioè i momenti migliori per questo tabacco per me sono stati leggendo magari un libro rilassato mentre guardavo magari un film o una serie tv quindi a fil di fumo lasciato in bocca nell'aria ti riodori assolutamente un aroma che è un aroma di veramente spettacoloso anche nell'aria e non ed è quindi bruciato lentamente ancora meglio permette di far venire fuori le sue note migliori è una cosa credetemi eccezionale ha un cugino perché questo è prodotto dalla Colase Enkop quindi azienda tedesca in questo caso soltanto complimenti per loro ha un un fuggino che sembrerebbe di una miscela molto simile di cui mi scordo adesso mi è passato di mente il nome ma ve lo dico subito perché ce l'ho segnato anche perché sarà il mio prossimo acquisto non c'è dubbio alcuno ah eccolo l'Ilan Starge l'Ilan Starge sempre però che è fatta che è di Rat Trace ed è sempre una moda da quello che ho capito è la stessa miscela sostanzialmente sempre prodotta con la Senkop fatta però per Mcconnell e per Rat Trace sarà interessante capire le differenze tra questi due tabacchi perché se trovo peraltro sempre venduto in latte da 100 quindi molto molto simili vediamo se sarà realmente simile questo credetemi ad oggi entra di diritto nei miei tabacchi favoriti mi permette di dimenticarmi totalmente anche di un mix di Balcaniche un mix delle migliori English che possiamo avere perché è veramente una perfetta mix tra le due tra le due sfere e anche delle modern che io comunque apprezzo ha un po' il meglio di tutte e tre delle situazioni ed è un tabacco anche eccezionale col caldo anche eccezionale durante il giorno cioè perfetto non è pesante anche se non è per questo privo di corpo cioè alla fine di una bella fumata anche perché con questa capacità di bruciare non troppo non troppo velocemente ma senza mai spegnersi permette di andare avanti a lungo ma questo non inficia minimamente sulla sua resa che è sempre davvero impeccabile ve lo consiglio non una ma cento volte se state cercando una buona miscela inglese con una base di un pizzico di dolcezza che vi dia il meglio delle English delle Modern delle Scottish delle Balcaniche questa è veramente una eccellenza paurosa su questo vi saluto e se il nome celebrate sovereign il sovrano celebrato la celebrazione del sovrano questo qua è veramente un sovrano oggi dei tabacchi in Italia provatelo provatelo va bene ciao buona giornata a presto